Sono ritornato con un nuovo video, nuova sfida, FUT22, andiamo a completarla Sfida abbastanza facile, io ho usato l'argentina come nazionalità Come potete vedere qua Questo è l'unico che l'ho messo così a caso perché ormai l'intesa e valutazione e tutte le altre cose ce le avevo già fatte Quindi non mi serviva aggiungere un altro E questo è l'ultimo Andiamo a prenderci il nostro premio e il nostro gettone Io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo con un prossimo Ciao ciao